per decenni è scomparso è senza dubbio il personaggio del momento è stato il fondatore del fascismo il capo del governo l'italiano nuovissimo e vostro nome benito mussolini il mio obiettivo di viaggiare per l'italia e di riconquistarla sareste d'accordo su una dittatura ma una dittatura libera però una dittatura non troppo dittatura un partito solo massimo due benito punto mussolini occupato ma dux 2018 il libero io non sono dux 2018 superuomo camicia nera eccellenza lui preso onore e rispetto vabbè beata a lei la piccio con gabriel garco è presissimissimo e che cazzo e che cazzo è libero progetti per il futuro fare l'impero che razza di persona sei un vincente eravate un popolo di analfabeti dopo 80 anni torno e vi ritrovo un popolo di analfabeti gli occhi non si dimenticano anche allora la gente rideva anche loro credevano fosse solo un comico